buonasera mi scuso se non mi sono preparato non mi sono fatto la barba né niente ma una serie di notizie mi ha fatto un po riflettere e volevo parlarne anche con con voi a proposito di questo le argomenti saranno le dichiarazioni di questi giorni la particolare tensione che si sta creando in maniera più grave più corposa tra gli stati uniti e servaglia varia europea al seguito e la russia c'è tutta una serie di dichiarazioni a margine della crisi migranti che coinvolge la bielorussia da un lato e la polonia dall'altro la way insomma e tutta una serie di dichiarazioni che va avanti da giorni da parte degli stati uniti che ai massimi livelli di della casa bianca parlo di blinken e altri lanciano allarmi sui movimenti delle truppe russe movimenti di cui contrariamente ai mesi scorsi non c'è traccia almeno né in video né sui social null'altro nessuno che abbia filmato e diffuso filmati riprese che inquadrino dei treni o delle truppe in movimento cosa che invece abitualmente prima succedeva infatti da prima l'ucraina addirittura un po stupita negava questa presenza anomala di truppe russe ai suoi confini oggi invece zelensky è uscito fuori sparando la cifra di centomila soldati russi che si sono materializzati con il teletrasporto ai confini dell'ucraina se intende forse il gruppo armate sud può anche essere vero ma non credo che siano proprio schierati al confine dell'ucraina saranno nelle loro basi nella zona lì vicino ma resta il fatto che queste informazioni vengono comunque diffuse e riportate poi dai media a vario titolo dall'altra parte una serie di notizie di fatti accaduti oggi invece ci lascia perplessi la prima notizia riguarda lo stato giuridico e dei rapporti tra le repubbliche del donbass donetsk e lugansk e la russia stessa decade ogni vincolo doganale ogni dazio ogni limitazione all'importazione di merci e beni da queste due repubbliche con la russia intera a tutti gli effetti non esiste più dogana o servizio doganale per le merci e i beni trattati e venduti tra le repubbliche la russia e viceversa tra la russia e le repubbliche ed è un segnale un forte messaggio che viene lanciato la russia dice chiaramente che considera quelle due repubbliche come alleate strettissime della russia economiche via dicendo addirittura come fossero quasi totalmente parte della federazione russa di fatto e non è una cosa di poco conto perché dall'altra parte invece gli stati uniti lanciano messaggi di tipo differente da una parte quindi la russia agisce per la pace e il dei cittadini delle repubbliche togliendo dazi doganali favorendo il commercio quindi lo scambio commerciale quindi il progresso economico delle repubbliche dall'altro gli stati uniti inviano in ucraina 80 tonnellate di munizioni che occhio e croce sono munizioni nato per il calibro intendo è per l'uso in determinate armi lo dico per via delle confezioni cioè delle scatole in cui sono state consegnate poi bisogna vedere il calibro esatto che è stampigliato sulle scatole fino a quando non avrò una immagine chiara da vicino che mi permetta di leggerlo non posso dire se saranno di calibro nato o meno questo per l'uso nel senso che l'ucraina in maggior parte utilizza ancora kalashnikov e munizionamento derivato dall'epoca sovietica mentre le forze nato che sono già presenti o eventualmente dovessero arrivare utilizzerebbero munizionamento proprio quindi nato differente il 223 o il 762 e non è di poco conto la cosa l'altra notizia fatto che è accaduto oggi riguarda il lancio di un nuovo sistema missilistico russo antisatellite che fonti riservate mi hanno indicato come siglato s 550 e cioè una modifica un upgrade un nuovo tipo di missile che si adatterebbe al sistema s 500 ma che ne eleva esponenzialmente la capacità antisatellite vi ricorderete che avevamo parlato di circa 200 250 chilometri in tangenza in quota quindi di volo di operativo per il sistema s 500 il missile lanciato oggi è arrivato alla quota di 400 chilometri cosa ha colpito è andata a colpire un missile cosmos vediamo se ho un'immagine ecco questo è un satellite cosmos 14 08 quello ho detto prima missile va bene intendevo satellite scusatemi il missile antisatellite ha distrutto questo modello cosmos 14 08 quello lì aveva sigla 14 82 in quanto lanciato nell'82 o era una modifica di questo un satellite di epoca sovietica quindi risalente ai primi anni 80 ormai in disuso serviva per l'allerta precoce del dell'approntamento dei missili americani in questo caso la quota di volo non è secondaria in quanto a quella quota quindi c intorno ai 400 chilometri viaggiano anche i satelliti del sistema di rilevamento e di allerta precoce americani il messaggio della russia è chiaro sono in grado di distruggere tutti i satelliti del sistema di allerta americano se vi ricordate tempo addietro assieme a vergiglio abbiamo parlato di come potremmo ricevere una diciamo un segnale forte dell'inizio di un ostilità come abbiamo immaginato inizierebbe un ostilità ai giorni nostri una ostilità a livello globale e abbiamo detto che una delle prime cose che verrebbero fatte sarebbe quella di distruggere i sistemi di satellitari del nemico sia quelli di allerta come nel caso di quelli che viaggiano intorno ai 400 chilometri sia altri satelliti di rilevamento spionistico o di telecomunicazioni o il gps anche perché no e via dicendo per fare questo ci vuole una rete efficiente di missili da lanciare anche da terra e che siano sufficientemente economici e in buon numero da poter essere usati efficacemente ecco i russi con il lancio di oggi dimostrano di avere questo tipo di capacità degli americani non sappiamo se esiste un sistema abbastanza efficace o economico perché in questo caso i russi lo inserirebbero addirittura nei sistemi di lancio delle batterie antiaeree e con queste sparsi attraverso tutto il loro territorio in movimento tra l'altro perché sono mobili potrebbero colpire e demolire con danni enormi il sistema satellitare americano se non addirittura demolirlo in tutto e per tutto o almeno in buona parte queste immagini rappresentano una parte del carico arrivato in ucraina sono dei pallet proprio di munizioni che vedete a giudicare dalle dimensioni delle scatole sono per mitragliatrici queste qui in primo piano ad esempio sotto pesanti probabilmente di calibro 12 le altre invece sembrano scatole più piccole quindi probabilmente sono munizioni per armi da fianco o fucili d'assalto e via dicendo non sono poche 80 tonnellate non saranno sicuramente nelle prime nelle ultime che arriveranno in ucraina gli americani stanno ancora soffiando e portando al limite la tensione con la russia le dichiarazioni dell'altro giorno di un generale americano anzi scusate inglese nick carter se ben mi ricordo non quello dei cartoni animati purtroppo ci dicono che il mondo nick carter ha preso atto che il mondo non è più diviso tra schieramenti due schieramenti come era i tempi della guerra fredda quindi unione sovietica da un lato e paesi satelliti quindi cortina di ferro e l'occidente la nato quindi a guida americana ma ci troviamo in uno stato multipolare addirittura ha citato il fatto che la situazione creatasi negli anni 90 nei primi anni 2000 con gli stati uniti come unica potenza mondiale non è più ci troviamo oggi a diciamo preso atto che ci troviamo in una situazione di multilateralismo in cui più soggetti più o meno potenti regionali o globali tendono a esercitare una politica e a portare avanti una politica che curi i propri interessi spesso in contrasto tra di loro e pertanto si vanno creando forti tensioni che in qualunque momento uno dei soggetti non ha detto specificatamente che possano essere tre come si potrebbe immaginare ad esempio cina russia e stati uniti ma ha lasciato intendere che possono essere anche più di uno e cioè quelle potenze regionali che agiscono in maniera autonoma spesso imprevedibili e che possono comunque coinvolgere con le loro azioni la reazione delle potenze invece a livello globale e tutto questo può e l'ha detto in maniera chiara in qualunque momento sfuggire dal controllo non capisco bene se quello che ha fatto è sia un'analisi o un grido di allerta e che cioè si stia accorgendo che l'attuale situazione di forti contrasti di forti tensioni stia arrivando a un punto di non ritorno e che cioè ci sia la volontà forse di portare al limite le tensioni di portarle a un punto di rottura quasi a voler dimostrare che una delle parti stia bleffando e che cioè a un certo punto getti la spugna il problema e penso che quello che sta dicendo fosse rivolto agli stati uniti che stanno spingendo attraverso le loro dichiarazioni le loro azioni anche gravi spesso e il mondo sull'orlo di una guerra il fatto che ci siano più soggetti in grado di scatenarla non fa che aumentare in maniera tremenda le possibilità che questo accada quindi non viviamo più nel mondo della guerra fredda con delle regole precise tra le potenze tra i servizi segreti c'era un gioco tra di loro ma un gioco che faceva capo a delle regole oggi queste regole sono saltate non ci sono più viviamo in un mondo in cui una parte pensa ancora di poter fare tutto quello che vuole e le altre cercano di fargli capire in maniera disperata che questo non è più accettabile pensate solo alle provocazioni americane anche contro la cina le scorribande navali nel nelle acque territoriali russe da parte delle unità americane o anche inglesi come nel caso del cacciatorpedinieri di poco tempo fa in ucraina che è russia scusatemi che in crimea che è russia e non ucraina la situazione anche in siria desta parecchia preoccupazione ma non tanto perché ci siano dei segnali di ripresa dei contrasti o di una campagna militare turca nel nord della siria o turiana nella sacca di idlib no preoccupa il fatto che la russia stia posizionando determinati sistemi di difesa antiaerea oltre a quelli che già aveva nelle basi se avete letto negli aggiornamenti si è parlato di hanno mostrato le immagini di un sistema s 400 posizionato nella base di camisli pochi giorni dopo un sistema s 300 o s 400 ricordate è sicuramente un s 300 pm u2 però tenete presente che al suo interno non si sa che tipo di missili ci siano e il sistema s 300 può anche portare dei sistemi di lancio per i vettori invece del sistema s 400 quindi con gittate velocità maggiori ma resta il fatto che comunque è un s 300 nella zona di masiaf c'è una batteria teoricamente siriana ma gestita dai russi di s 300 anche quella giornata più più e più volte e poi nella base di eme min ci sono anche lì una una più batterie di s 400 più altri sistemi la stessa cosa anche ci sono i panziere i book m2 a camisli e in altre zone anche nella nella base a sud di kobane i russi avevano posizionato diversi sistemi di lancio con 20 30 chilometri di gittata quindi di media gittata e di punto come i panziere o lo schema tra l'altro ve lo faccio vedere ecco questa è camisli qui 400 chilometri coprono fino al confine diciamo intorno alla base di al tanf in in siria nel quella base occupata dagli stati uniti camisli è a nord esattamente sul confine con la turchia questa è la base di al tanf e la copertura dell' s 300 in questo caso quindi circa 200 chilometri copre tutta la zona di palmira oms questa è la zona della tias la base l'importante aeroporto siriano in cui ci sono anche forze filo iraniane e poi c'è masiaf che in questo settore qui e meimin che è vicino a tartus scusatemi la tachia andiamo a vedere adesso i raggi d'azione di queste batterie in questa mappa che copre un po' più in largo la siria con i paesi vicini allora ho posizionato in maniera più o meno corretta il raggio d'azione massimo teorico di una batteria s 400 s 300 sulla base della loro del loro posizionamento allora andiamo a vedere come la batteria s 400 ha un raggio d'azione massimo di 400 chilometri non pensate che un aereo che entra a 380 possa essere distrutto istantaneamente no è la distanza massima alla quale viene inseguito anche un velivolo quindi entro un certo raggio all'interno di quella massima zona di impiego non ha possibilità di fuggire ecco cioè la velocità in caso inverta la rotta per uscire dalla zona del dell'ingaggio e prima di essere raggiunto dal dal missile è quel punto di non ritorno diciamo oltre al quale se viene inquadrato e avviene il lancio l'aereo difficilmente ha la possibilità di salvarsi le batterie s 300 come vedete hanno un raggio d'azione inferiore circa 200 chilometri che è quindi la metà all'interno di questo raggio il raggio massimo d'azione ed efficacia di questi missili è 200 chilometri come vedete la differenza tra un sistema s 400 e un sistema s 300 è notevolmente superiore il raggio di inquadramento ad esempio dei radar eccede di credo altri 200 300 chilometri la gittata dei missili quindi arriva a 6 700 chilometri come massimo raggio d'azione a seconda del tipo dei bersagli la capacità di ingaggio di questi sistemi radar diminuisce ovvero un ad esempio un boeing verrà visto a 750 chilometri 800 chilometri anche magari un caccia normale di terza generazione per dire o quarta verrà visto a 600 chilometri 500 chilometri un caccia f 35 potrebbe essere visto magari a 200 chilometri dal bersaglio o 150 resta comunque il fatto che l'S 400 è più sensibile e sa come cercare i suoi bersagli meglio del sistema s 300 a meno che l'S 300 non sia stato in qualche modo aggiornato in modo da poter inseguire dei precisi bersagli a rilevamento e a segnale molto ridotto la zona di copertura come potete osservare con gli S 400 due sole batterie sono sufficienti a coprire la maggior parte dei bersagli sensibili di tutta la Siria anche perché in alcune zone si incrociano ora immaginate posizionare un'altra batteria di S 300 nel settore ad esempio della base aerea di Tihas vicino a Palmira questo porterebbe la copertura ben oltre damasco con i sistemi S 300 e godendo anche della copertura e delle informazioni derivanti dal radar dell'S 400 il problema che mi chiedo io è per quale motivo i russi hanno posizionato questo tipo di sistema e in questo modo tra l'altro coprendo molto del nord del paese può essere un disincentivo per i chi ad attaccare la Siria è possibile sì ma è possibile anche che stiano posizionando dei pezzi per creare una rete di difesa aerea molto più efficace e farla entrare in azione una volta completata di sicuro lo schieramento può creare una zona di interdizione al volo anche sopra i cieli del libano questo per capirci non credo però che questo tipo di azione sia riferibile eventualmente a israele perché sappiamo benissimo che c'è un gioco delle parti diciamo che c'è un accordo tacito voi date la caccia a dei bersagli che noi cerchiamo di nascondervi dopo che sono atterrati con i voli aerei che casualmente non vengono abbattuti quindi noi cerchiamo di nascondervi e voi cercate di colpirli però questo gioco va avanti ma vengano tralasciati i comandi militari di elevato rilievo diciamo le basi principali anche di hezbollah in libano che non vengono bombardate al momento né tantomeno è stata presa di mira damasco città o le sedi del governo della città meno che mai la persona di del presidente e quindi capite che è un gioco delle parti tra l'altro un'ora fa circa anzi due ore fa su alabu kamal si sono verificate delle esplosioni in concomitanza con l'osservazione in volo di diversi droni da combattimento quindi possibile che gli americani o gli israeliani eventualmente ma più probabili visto possono essere anche gli israeliani hanno portato un nuovo attacco contro le forze diciamo filo iraniane che sono basate ad alabu kamal in funzione anti isis tra l'altro perché sono zone soggette ad isis e vengono regolarmente colpite o dagli americani o dagli israeliani in questo settore noto comunque che è impressionante come la copertura degli s 400 va posizionati a kamisli vada a coprire gran parte del della turchia orientale gli s 600 gli s 500 hanno una gittata massima quindi teorica come vi ho spiegato prima non va inteso ogni bersaglio che come entra nei 400 chilometri o nei 600 di un s 500 viene automaticamente distrutto no non è così il lancio avviene a una distanza molto inferiore perché l'ingaggio non è rilevamento però una volta ingaggiato diciamo che entro i 400 chilometri può anche stringere l' s 500 arriva a 600 chilometri quindi è un raggio d'azione molto superiore con un sistema radar di rilevamento ancora più sofisticato ancora più sensibile e votato anche a individuare una distanza molto maggiore proprio i bersagli a basso rilevamento furti e ad elevata furtività come gli s 22 gli f 35 e questo è un sistema ed è una situazione che è anomala rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni in siria a parte il fatto che ad esempio l' s 300 siro russo basato a masiaf non è mai entrato in funzione si sono limitati a monitorare quanto avveniva quindi a raccogliere informazioni sui su tutti i sistemi di rilevamento e di contromisure elettroniche che magari mettono in campo gli israeliani però senza mai effettuare un lancio un attacco per questo parlo di gioco delle parti resta comunque il fatto che tutto sta avvenendo in maniera anomala il lancio dell s 550 il posizionamento più rapido possibile delle nuove batterie s 500 in russia 10 reggimenti ordinati e da consegnare nel entro la primavera del 2022 che vuol dire entro brevissimo tempo dieci batterie vuol dire come minimo sono quattro lanciatori luna ma gli s 500 arriva anche a otto lanciatori per ogni reggimento che vuol dire 32 missili per ogni pronti al lancio per ogni reggimento quindi 32 per 10 fa 320 missili di nuovo tipo una salva che va a coprire gran parte se non la totalità degli obiettivi sensibili in russia perché poi oltretutto tenete presente che dai posti di comando di rilevamento eccetera le batterie cioè i singoli lanciatori possono essere anche posizionati a decine di chilometri di distanza ampliando ulteriormente quel cerchio di 600 chilometri diciamo in ls 300 fino a 50 chilometri si può spostare quindi ampliandolo di 50 chilometri da un lato e dall'altro diventa un raggio di 300 chilometri comunque va bene così le tensioni quindi aumentano aumentano le tensioni e vediamo come la partita dei migranti sia un po una distrazione dalle dichiarazioni pesantissime che gli stati uniti hanno fatto che nick carter il comandante in capo delle truppe inglesi ha fatto ci sono troppi riferimenti a queste benedette truppe russe troppi riferimenti a un possibile attacco russo all'ucraina il comando inglese tra l'altro il l'ho letto su un giornale inglese non mi ricordo più cosa fosse il nome del giornale quotidiano comunque sia riportava che anche un lettore tra di voi mi ha fatto notare mi ha chiesto la disponibilità inglese a inviare circa 600 uomini per rafforzare il dispositivo difensivo dell'ucraina questo 600 uomini sarebbero composti da special air service forze di altro tipo dell'esercito e 400 paracadutisti reali truppe quindi dell'elite di primo ordine da inviare in un teatro assai delicato più volte la russia ha detto che un ingresso della nato in ucraina rappresenta una linea rossa ora noi stiamo vedendo forze della nato che continuano a fluire verso l'ucraina verso il confine russo munizioni di ogni tipo sistemi d'arma letali consegnate abbiamo visto centinaia di missili javelin adesso decine di tonnellate di munizioni tutto questo ci lascia presagire che gli stati uniti vogliano provocare fino alle estreme conseguenze la russia probabilmente loro pensano che a un certo punto la russia getti la spugna ma io non sono convinto di questo e purtroppo invece sembra che gli americani lo siano e per me potrebbero anche rischiare di fare un passo falso tanto va la gatta allardo che ci lascia lo zampino come si soleva dire i proverbi sono la saggezza dei popoli peccato che negli stati uniti questi proverbi non ci siano vediamo adesso che cosa succederà questa primavera abbiamo assistito ad un momento di tensione elevatissima che per fortuna non è sfociata in una guerra aperta speriamo che anche stavolta vada avanti così e che non succeda nulla di strano o di drammatico noi proseguiamo nelle nostre vite ignari di quanto può succedere intorno a noi e speriamo in bene vi ringrazio per l'attenzione scusatemi se mi sono dilungato e per il fatto di non essermi fatto la barba mi scuso ancora buona serata a tutti